a marotta tentato omicidio suicidio fra le mura domestiche dai condomini ai supermercati raffica di furti fra pesero e gabizzi ancora vandalismi giovanili preso di mira un parco della torrata dal pd a forza italia confronti e schermaglie sul pnr basket a pesero la coppa italia finisce di nuovo in mano a milano una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv inizia una nuova settimana in compagnia dell'informazione della nostra emittente con la prima edizione di oggi per quello che riguarda il tg rossini news che in questa edizione di lunedì febbraio apriamo occupandoci di diversi episodi di cronaca sviluppatisi dal weekend alla giornata odierna cominciamo da uno particolarmente grave accaduto a marotta dove francesco castagnaro di 82 anni fra le mura domestiche ha coltellato la sorella carmela di 79 al termine di una lite la donna è stata raggiunta la schiena dall'arma da taglio ma è riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto nel frattempo il fratello ha tentato di suicidarsi ingerendo una importante quantità di barbiturici la donna si sta riprendendo in ospedale mentre l'uomo versa in gravi condizioni al santa croce di fano dove è piantonato dai carabinieri di marotta per tentato omicidio un crimine sul quale si sta cercando di ricostruire la dinamica e il movente degli eventi ma è stato un weekend anche funestato da un incidente stradale mortale quello occorso alle 46enne stefano tomassetti di sant'ippolito che sabato alle 18 è deceduto per le lesioni riportate in seguito a uno schianto dopo aver perso il controllo della sua auto nella provinciale fra schieppe di orciano e barchi l'autopsia ora verificherà se c'è stato un malore alla base del decesso tomassetti operaio molto conosciuto a sant'ippolito era padre di un figlio di 20 anni lutto invece per l'università di urbino che piange l'improvvisa scomparsa di silvio cecchini spentosi in ospedale questo weekend a 58 anni in seguito a un malessere che in 24 ore l'ha portato dal ricovero al venire a mancare proprio nel nosocomio urbinate cecchini era uno stimato funzionario informatico dell'università e una figura molto attiva nel mondo sindacale rappresentando per anni l'università all'interno della cgl ancora cronaca perché un periodo particolarmente intenso per quel che riguarda i furti dalle abitazioni ai supermercati fino addirittura alle chiese come ci mostra questo servizio identificavano le prede in cittadini anziani ne apprendevano nomi e cognomi dai campanelli e poi al citofano circostanziavano scuse valide per entrare in casa e derubare gli stessi anziani un modus operandi scoperto dagli uomini della squadra mobile che hanno monitorato due giovani donne girovagare per il centro di pesero mettendo in atto comportamenti e movimenti ben noti alle forze dell'ordine per circuire anziani al fine di derubarli e così venerdì pomeriggio è scattata la trappola le due donne hanno effettuato il blitz in un condominio del centro e la polizia all'uscita era pronta ad aspettarle controllata l'auto le donne con una rapida manovra si sono date alla fuga tamponando anche una macchina parcheggiata i poliziotti però sono comunque riusciti a risalire sia al mezzo trovato abbandonato in un parcheggio sia alle donne trovate ancora con la refurtiva addosso composta in monili d'oro pronti da restituire alla vittima per le donne entrambe madri è scattato l'arresto e la revoca del reddito di cittadinanza un furto invece del tutto analogo a quello commesso a gennaio alla chiesa di osteria nuova è avvenuto nei giorni scorsi anche alla chiesa di santa mare annunziata di gabice mare in entrambi i casi uno sconosciuto si è introdotto nel luogo di culto e dopo aver forzato il lucchetto della cassetta delle offerte si è appropriato di circa 120 euro le immagini dello scasso attraverso la video sorveglianza hanno lasciato pochi dubbi una volta messa a confronto con i due episodi l'autore a parere degli investigatori era lo stesso ovvero un cittadino argentino di nuovo denunciato era invece entrato in azione al supermercato cona del tavolo di gabice un borseggiatore che il 7 gennaio aveva sottratto dalla borsa di una sessantenne il portafogli contenente 160 euro e tutti i documenti ad incastrare il presunto malfattore sono stati i carabinieri di gabice che a inizio febbraio sono transitati invece a pesero davanti a un altro supermercato e hanno riconosciuto l'autore del borseggio risalente a un mese prima scattando così la denuncia in stato di libertà e dai furti passiamo ai sempre più frequenti episodi di vandalismo giovanile questa volta ad essere stato preso di mira è stato un parco in zona torraccia a pesero il servizio scusate cosa state facendo voglio capire bene cosa state facendo il video che vi abbiamo appena mostrato è stato girato sabato sera qui nell'area parco della torraccia in via dei frassini dove alcuni residenti hanno messo in fuga un gruppo di giovanissimi circa una ventina che dalle abitazioni appunto di questi residenti erano stati avvistati mentre si stavano rendendo protagonisti di alcuni episodi di vandalismo in pratica gli adolescenti hanno divelto tre panchine e contestualmente hanno forzato l'apertura di questa casetta di legno normalmente adibita a ripostiglio per attrezzature dedicate alla cura del verde all'interno della casetta i giovanissimi hanno poi infilato le panchine appena sradicate una bravata giovanile sconfinata in un atto di vandalismo per la cosa pubblica che ha mandato su tutte le fure alcuni condomini in particolare una donna e un uomo che hanno assistito allo svilupparsi degli eventi e armati di cellulare e intimidazioni hanno messo in fuga i ragazzi come immortalato dal video condomini che hanno riferito anche di aver allertato i carabinieri ma la concomitanza di gran parte del personale dell'arma alle semifinali di coppa italia di basket alla vitri frigo arena non avrebbe reso il servizio celere e insomma continuiamo ad occuparci sempre più spesso di giovani fuori controllo e di episodi gratuiti e ingiustificati episodi di vandalismo che ad esempio erano avvenuti anche nel vicino parco di vismara nel vicino parco cittadino dove il comune ha deciso di installare delle videocamere di sorveglianze speriamo però che l'educazione diventi sempre il primo deterrente a evitare questi episodi episodi che come sempre vi invitiamo a denunciare anche a noi di rossini tv al numero di whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 e dunque vi ricordiamo il nostro numero dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 altra segnalazione ci arriva a tal proposito da fernando nostro telespettatore che ci ha inviato questa foto anche in questo caso si parla di vandalismi anche in questo caso l'accanimento è contro una panchina che è stata sfasciata in piazza del popolo un episodio che segnaliamo e che presumibilmente sarà al vaglio anche della tanta videosorveglianza presente nel cuore del centro storico e da oggi le marche sono tornate in zona gialla sull'onda di casi di ricoveri che continuano ad abbassarsi come testimonia una cifra ridottasi oggi a 301 pazienti indegenza in regione di cui 31 in terapia intensiva oggi come all'indomani di ogni domenica è ridotto il numero di tamponi così come quello di casi sono 560 nuovi contagi di cui 89 in provincia di pesaro urbino oggi si registrano anche cinque decessi di persone di età compresa fra 70 e 87 anni è stato un weekend particolarmente intenso nel tema del dibattito politico per quello che riguarda sanità e fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza un tema sul quale il partito democratico di pesaro ha invitato in comune l'ex ministro delle infrastrutture paola de micheli attuale responsabile del pd per l'attuazione del pnrr fondi dal piano nazionale di ripresa e resilienza e loro utilizzo più efficace tematica calda in questo inizio 2020 tematica che questo weekend il partito democratico di pesaro ha voluto approfondire ospitando l'ex ministro delle infrastrutture paola de micheli oggi responsabile nazionale del pd per l'attuazione del pnrr complessivamente dagli stanziamenti che sono stati previsti i 66 miliardi sono per i territori per gli enti locali quindi per le regioni per le comuni e per le province ovviamente queste risorse vengono riconosciute partecipando a dei bandi molti di questi sono già in corso altri usciranno nei prossimi mesi gli enti locali quindi comuni le province e le regioni devono essere pronte nella risposta a nostro avviso in due direzioni programmando sapendo conoscendo il territorio e quindi conoscendo i bisogni reali del territorio senza che ci siano delle dispersioni in ad attività per attività che poi non possono vedere il cantiere aperto entro il 31 12 2023 quindi facendo programmazione e ovviamente cercando di valorizzare al massimo i progetti che sono già in uno stato avanzato di maturazione in modo tale che sempre entro la data fatidica del 31 12 2023 questi progetti diventino cantieri la regione marche così come tutte le altre ragioni potrà partecipare attraverso l'utilizzo dello strumento della programmazione dei progetti alle ai bandi che usciranno proprio finalizzati alla sanità ci sono alcuni alcune misure sanitarie che però hanno bisogno di un pochettino più di tempo penso per esempio a tutta la parte relativa alla telemedicina la telemedicina potrà essere un progetto funzionale quando si saranno realizzati gli altri bandi quelli della digitalizzazione quindi c'è anche una forte interconnessione tra tutte le misure che sono state previste dal piano nazionale di ripresa resilienza quindi vedo una fase assolutamente positiva e soprattutto perché c'è un commissario che ha rimesso in ordine alcune questioni che purtroppo per qualche mese erano state un pochettino abbandonate in passato l'incontro con la De Micheli organizzato dal PD di pesero ha visto la partecipazione nella sala del consiglio comunale di tanti amministratori locali e delle principali sigle sindacali e associazioni di categoria come PD cerchiamo di essere coerenti con il nostro impegno per approfondire i temi importanti e fondamentali che sono di attualità il PNRR dà all'Italia circa 80 miliardi di investimenti e possono essere utilizzati in maniera efficace e significativa per dare veramente un cambio di passo su vari obiettivi e problemi a cominciare dalla pubblica amministrazione e il tema della transizione ecologica e seguiranno anche altre iniziative di approfondimento che come Partito Democratico riteniamo utile portare portare nel dibattito politico della città proprio per essere sensibili e attenti alle problematiche sia locali che nazionali e PNRR e Sanità sono stati al centro anche di un altro appuntamento tenutosi in comune a Pesero e organizzato da Forza Italia alla presenza dell'assessore regionale all'edilizia e al lavoro Stefano Aguzzi che nell'occasione ha replicato alle diverse critiche reputate strumentalizzate che arrivano dalla opposizione in consiglio regionale è stata l'occasione per fare il punto sulle opere di edilizia sanitaria sulle quali la regione Marche sta riversando i fondi del PNRR ma è stata pure l'occasione per rispedire al mittente dell'opposizione di centro-sinistra le tante critiche ad una sanità etichettata come dimenticata sul territorio di Pesero Urbino critiche strumentalizzate secondo l'assessore regionale all'edilizia Stefano Aguzzi ospite del confronto con le delegazioni di Forza Italia provinciali riunite sabato nella sala del Consiglio Comunale di Pesero sono stato molto stuzzicato dai continui interventi di alcuni consiglieri regionali del PD di questa provincia e di questa città che continuamente mettono in discussione l'operato che l'amministratore regionale fa o è chiaro il ruolo dell'opposizione ci sta ma continuano a dire che non si è fatto nulla sul fatto del San Benedetto qui a Pesero continuano a dire che non si è fatto nulla sull'opposizione sanitaria addirittura parlano di privatizzazione della sanità perché sono stati immessi nei nostri ospedali alcuni medici di cooperative per poter garantire la turnazione e il funzionamento dei nostri ospedali allora noi non possiamo far passare il fatto che coloro che non hanno fatto quel che avrebbero dovuto quando governavano oggi sono qui a dare i voti e a dire che gli altri non fanno nulla noi finalmente siamo arrivati a dire che a Pesero ci sarà un nuovo ospedale e abbiamo stanziato già 150 milioni di euro per realizzarlo loro hanno chiuso gli ospedali in questa provincia e hanno quasi svuotato l'ospedale di Fano noi oggi rimettiamo 16 milioni sull'ospedale di Fano e ne mettiamo anche 5 e mezzo per l'ospedaletto per un hospice pediatrico che era chiuso da 25 anni su Urbino mettiamo 10 milioni di euro per una nuova paralzina per l'emergenza di fianco all'attuale ospedale sul San Benedetto loro non ne hanno parlato mai ed il presidente della regione fino a un anno e mezzo fa era di questa provincia ed era di questa città abbiamo portato avanti l'iniziativa, abbiamo messo in condizione il comune di Pesero con un accordo che io ho proposto al sindaco Ricci di poter usufruire il comune di Pesero di 15 milioni di euro per la ristrutturazione parziale del San Benedetto e sul resto interverremo noi come regione con un milione che è già pronto per la progettazione complessiva siccome è una cosa importantissima per il centro città non possiamo improvvisare un qualsiasi progetto dobbiamo fare un progetto all'altezza di quello che Pesero città merita dove il centro storico deve essere ricondotto anche con all'interno un San Benedetto completamente ristrutturato fruibile con i giardini interni fruibili per i cittadini non è semplice fare una progettazione di questo genere quando ci dicono non avete messo i soldi del PNRR i soldi del PNRR devono essere rendi contati nel 1926 se lì non c'è neanche un progetto perché nessuno finora l'ha mai fatto noi non possiamo ammettere gli soldi che poi sappiamo di non riuscire a rendi contare entro il 2026 saranno fondi successivi che arriveranno dichiarazioni che Aguzzi ha rivolto in occasione di un tavolo di confronto alla presenza della rappresentante di Forza Italia di Urbino Laura Scalbi di quello di Fano Mauro Falcioni e del pesarese Michele Redaelli padrone di casa nell'occasione tematiche che non si affrontavano da 20 anni, 30 anni e che con questa giunta regionale abbiamo iniziato ad affrontare il San Benedetto, la prima e la seconda è quella della sanità col PNRR e con i fondi della regione mettiamo in campo una sanità nuova, rinnovata territoriale con anche importanti investimenti su Pesaro idem vale per il tema del San Benedetto Fra le accuse che poi Aguzzi ha replicato ai consiglieri Biancagni e Vitri anche quella al presunto abbandono all'ospedale di Sasso Corvaro Noi oggi, oggi, per Sasso Corvaro non possiamo ammettere nulla per il semplice motivo che quello è in mano a un privato dato dalla vecchia amministrazione Cerisoli e non si può investire su un ospedale che è dato e ad appaltato a un privato per lo meno finché non termine la convenzione Allora, la smettano di avere quest'ansia da prestazione di chi gli manca il governo e quindi non si sono ancora adattati a quella che la democrazia chiama opposizione È cominciata la settimana della Regione Marche all'Expo 2020 di Dubai Un argomento sul quale abbiamo cominciato ad aggiornarvi tutti i giorni lo faremo tutta la settimana in un format dedicato alle 18.45 a questa importante spedizione nella quale vi daremo conto quotidianamente anche nel nostro TG Vediamo a tal proposito alcuni contenuti di questa giornata È partita la spedizione della Regione Marche all'Expo 2020 di Dubai dove per una settimana la Regione valorizzerà il suo brand Marche Land of Excellence È proprio un tema di eccellenza se partiti subito col botto ovvero con la presenza in diretta streaming anche del CT della Nazionale di Calcio Campione d'Europa Roberto Mancini che in versione testimonial delle Marche ha partecipato al Forum Bellezza e Sostenibilità coordinato a Dubai dal Vicepresidente della Regione Mirko Carloni Bellezza e Sostenibilità caratteristiche enfatizzate dallo stesso Presidente Acquaroli in collegamento Francona e gli Emirati Arabi Mi piace sempre dire che noi abbiamo delle difficoltà infrastrutturali che cerchiamo di superare abbiamo un gap da colmare però quando qualcuno viene da noi difficilmente non torna o difficilmente ritorna a casa con un pensiero negativo che ci riguarda e credo quindi che la migliore promozione è poterci vivere perché siamo un territorio anche difficile da raccontare perché le emozioni il nostro è un territorio che crea emozioni sotto tanti punti di vista e le emozioni molto probabilmente hanno un meno impatto se non le vivi in prima persona Oggi è una giornata importante perché ci riaffacciamo in un importante dialogo con gli Emirati Arabi un dialogo che può essere foriero di opportunità reciproche su cui poter costruire una strategia precisa credo che tutte le opportunità vadano colte ma questa va colta anche nel solco di quello che già c'è stato in passato e che si può riscoprire Valorizzazione territoriale ma anche importanti accordi economici Momento centrale della giornata odierna è stato infatti la sottoscrizione del memorandum d'intesa tra Regione, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio di Dubai Sicuramente tutte quelle filiere che sono il fiore all'occhiello della comunità economica marchigiana andiamo da tutto il sistema casa dal mobile, dal sistema della moda il TAC, testi, l'abbigliamento, calzatura dal sistema delle start-up innovative che noi abbiamo non dimentichiamo l'acqua alimentare che sul biologico, gli Emiratini e quel palcoscenico economico può essere interessante sul sistema casa abbiamo tantissime aziende che possono intervenire da quelle dell'illuminazione a quelle dell'arredo da quelle che realizzano le cucine ma per le grandi strutture che si stanno realizzando negli Emiratini logicamente loro possono essere come general contractor molto presenti e molto attivi sulla moda, sulla gioielleria noi abbiamo dei distretti importanti sulla gioielleria che già negli anni passati hanno toccato la fiera di Charger che è proprio demandata su questo e hanno ottenuto dei risultati ottimi come Camera di Commercio delle Marche stiamo lavorando per realizzare una filiera su questo settore perché pensiamo che possa essere anche un settore da poter sviluppare per far conoscere al meglio che le marche hanno una moltitudine di filiere tra queste mettiamo anche il turismo come abbiamo sentito oggi e questo protocollo va a valorare tutto quello che è il nostro modello marchigiano da poter mettere in campo lo mettiamo in campo in una platea importante come l'Expo Dubai oggi penso che sia una pietra miliare per i rapporti futuri Ed ora lo sport cala il sipario sulle finale di Coppa Italia che si sono giocate a Pesor da mercoledì a ieri giornata quella di domenica che ha incoronato di nuovo Milano con la Coppa Italia 2022 vincendo sulla sorpresa Tortona parleremo di questo ma anche dei risultati di calcio, calcio a 5, volley e rugby in questo servizio Come due anni fa alla Vitri Frigo Arena si spengono i riflettori dopo 5 giorni intensi di Final 8 Ad alzare la Coppa Italia per la seconda volta consecutiva è stata l'Olimpia Milano che con un melli in grande spolvero ha saputo domare la neopromossa Tortona imponendosi per 78 a 61 A fare da cornice a questa finale che lo scorso anno aveva visto protagonista anche la VL è stato il Palazzetto di Pesaro che in seguito al nuovo decreto legge ha potuto accogliere così, proprio da domenica il 60% di capienza massima 5.000 appassionati di basket sono dunque a corsi per vedere l'ultimo atto di uno dei più grandi eventi cestistici in Italia colorando di passione un'atmosfera già calda Per il calcio è stato invece un weekend che ha lasciato la mare in bocca sia per la VL che per il Fano Sconfitta Cesena per gli uomini di Mister Banchini che dopo aver pareggiato nel primo tempo il momentaneo svantaggio hanno visto poi i padroni di casa terzi in classifica segnare a 7 minuti dalla fine e vincere per 2 a 1 Biancorossi che scenderanno di nuovo in campo mercoledì 23 febbraio allo stadio Benelli contro il Pescara Nessun punto anche per l'Alma Juventus Fano caduta al Mancini per 1 a 0 nella sfida contro Chieri Oltre al danno anche la Beffa visto che nel finale è stato espulso l'Icaxiu lasciando in 10 un Fano che si ritrova sempre più risucchiato nella parte bassa della classifica Ha rallentato il suo cammino anche Little Service che in queste prime 4 giornate del 2022 ha pareggiato per ben 3 volte Un punto anche sabato ottenuto per 2 a 2 contro il Matera vedendosi attualmente distanti 4 punti dal Padova capolista Biancorossi che voleranno in Sicilia per affrontare martedì alle ore 16 il Meta Catania e la partita verrà trasmessa in diretta su Rossini TV Impresa compiuta invece dalla Megabox Vallefoglia che al Palla Carnaroli di Urbino ha schiacciato il Casal Maggiore per 3-7 a 0 La squadra di Coach Bonafede ora più 5 dalla zona retrocessione grazie anche alle 3 vittorie nelle ultime 4 partite affronterà mercoledì sempre in casa le campionesse di Conegliano La Fiorini Rugby Pesaro è scesa invece di nuovo in campo trovando una buona vittoria contro il Romagna aggiudicandosi così il derby per 34 a 18 E con lo sport termina qui questa nostra edizione del telegiornale vi ricordiamo la nostra prima serata che come ogni lunedì è dedicata alle tematiche di salute o meglio a Check Up obiettivo salute questo nostro format il realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center in onda tutti i lunedì alle 21.20 con prima replica alle 23.15 puntata nella quale ci occuperemo di terapia del dolore in compagnia del dottor Alessandro Ingardia medico chirurgo specialista in anestesia e rianimazione l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa di quotidiani locali che tutte le mattine vi tiene in compagnia in diretta alle 7.20 dal lunedì al sabato domani martedì a tenervi compagnia ci sarà nello specifico la nostra Emanuela Rossi e poi il pomeriggio di domani martedì 22 febbraio sarà caratterizzato da un grande appuntamento di sport nuovo turno infrasettimanale per l'Ital Service Pesaro nella Serie A di calcio A5 nuovo appuntamento trasmesso in diretta su Rossini TV la partita sarà quella fra Meta Catania e Ital Service come detto appuntamento domani martedì 22 febbraio alle 16 su Rossini TV E dunque è davvero tutto per questa edizione del telegiornale ora ci sono le previsioni del tempo e da parte mia non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti